Oggi, finalmente, dopo tantissimi anni, dopo decenni, negli Stati Uniti, in contemporanea con noi, presso il Museo del Monte Erasmus, verrà scoperto una targa dedicata a Luigi del Bianco e al lavoro che lui ha svolto nella realizzare le sculture del Monte Erasmus. Tra le iniziative di oggi abbiamo pensato di titolare il primo tratto per ora di questa vecchia strada, della vecchia e antica strada che portava da Meduno a Del Bianco, di titolarla a Luigi del Bianco. Questo percorso, il primo tratto, arriva nel Borgo Valle, che è la borgata prima di Del Bianco e lì abbiamo apposto un segno con su scritto Sentiero Luigi del Bianco. Ed è la stessa scritta che viene messa sul Monte Erasmus, la stessa. Luigi del Bianco, capo scalpelino sul Monte Erasmus, un fiero friulano. Luigi del Bianco, capo scalpelino sul Monte Erasmus, un fiero friulano. Luigi del Bianco, capo scalpelino sul Monte Erasmus, un fiero friulano. Luigi del Bianco, capo scalpelino sul Monte Erasmus. Grazie a tutti.